Ciao creatura, io sono Ecate Splendente, benvenuta o bentornata nel regno di CosaE, A-S-M-R. Non te l'ho mai detto creatura, ma io guardavo sempre la serie tv H2O con le sirene, mi piaceva tantissimo, i peli di gatto. Adoravo quella serie con le sirene e tu la vedevi come lo sapete nei commenti. Era troppo bella per chi non lo sapesse, se non lo sapesse cos'è, era una specie di film, una serie, dove c'erano tre ragazze che trovi in un'isola tramite la luna piena, in una grotta, insomma non voglio spodere troppo, beh insomma in poche parole queste tre ragazze diventano tre sirene ogni volta che l'acqua le colpisce, quindi... e poi prendono anche dei poteri magici, ogni sirene ha un potere diverso. Ovviamente la serie è sia fantasy perché ci sono le sirene, insomma queste creature magiche, ma anche divertente perché immaginate ogni volta che ti bagni, che una goccia d'acqua tocca la tua pelle, diventi una sirena, quindi nei posti più impensabili e loro dovevano mantenere il segreto, quindi insomma era questa la parte divertente, ecco quella. Poi ci sono anche le storie d'amore, insomma è una serie molto carina per ragazzi. Come hai letto dal titolo, oggi voglio provare l'incantesimo insieme a te. Proviamo questo incantesimo per diventare una sirena. Ho un po' paura sinceramente perché se vuoi funziona... Cioè ogni volta che l'acqua mi toccherà diventare una sirena, quindi... Però sono anche curiosa di scoprire quale potere avrò, se sempre si funziona. Comunque io ho scritto l'incantesimo, ho anche preparato gli ingredienti per la pozione e comunque se vuoi provare anche tu a casa, l'importante è che sia una notte di luna piena. Oggi c'è luna piena, stasera c'è luna piena e quindi possiamo provare a... a questo esperimento, chissà se funzionerà. Tu cosa dici creatura? Scrivi uno commento, secondo te se funzionerà o no? Allora, quello che ci occorre è una ciotola, preferibilmente trasparente, però se non ne hai altre, se ne hai di plastica colorata va bene lo stesso, però trasparente sarebbe meglio. Poi ci vorrebbe dell'acqua, di mare, ma io non ce l'ho e quindi se non ce l'hai neanche tu non c'è problema, basta fare acqua e sale e si risolve. Si fida di... cioè così è. Poi dopo servono o... servono delle conchiglie. possono essere o le tre più belle che hai, oppure più conchiglie metti, più c'è probabilità che funzioni. Io ho questa qui bellissima, per esempio, che è tutta sigrinata. Come puoi sentire? Guarda com'è bella. È stupenda. Poi ho anche questa, sempre sigrinata. Però è più sul bianco, metterò queste due. E poi ne metterò tante altre, perché qui ho una scatolina piena. che ho raccolto al mare quest'estate. Come puoi vedere, quindi ho più possibilità che da cosa funzioni, però l'importante è, se proprio non ne hai tante tante, bastano le tre più belle che hai. Ovviamente più sono belle, più diventerò una bella sirena. Volendo si potrebbero aggiungere glitter o cose varie, ma io non voglio essere quel tipo di sirena glitterata, io voglio essere più basic, quindi non metterò quelle cose lì. Però metterò il mio profumo, la mia essenza preferita, e il mio profumo preferito è questo, che è un deodorante al cocco. Come pensai? Io adoro il cocco. Ci andranno tre spruzzi, o tre gocce, dipende in che formato hai la tua essenza barra profumo preferita. Poi, vabbè, il sale, abbiamo detto che ne servirà poco, di sale grosso. E poi ci vorrà un capello, un vostro capello, un tuo capello, un mio capello in questo caso. E poi ci vuole l'oggetto che portate più spesso con voi. Io ho questo braccialetto qui, che lo porto sempre, 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 è legato, ma in realtà lo posso sfilare. Ecco qua. Come vedi è uno di quei tipo braccialetti dell'amicizia, però non mi è stato legato, me lo sono comprato io. Troppo bello. E lo porto sempre, sempre, sempre con me. E quindi andrà dentro nella pozione. Ok. Direi che possiamo iniziare. Cosa dici, creatore? Bene, sposto tutto. Vado a versare l'acqua nel contenitore trasparente. La mia acqua è dentro la bottiglia, per praticità, ma è acqua del rubinetto. Però, se tu hai l'acqua del mare, è ancora più potente. Ok, basta così. Non ne serve tantissimo, però ne appondo un altro poca là. Se finché la versateva le bolle, è meglio. Però deve essere acqua natura. Però deve essere acqua non frizzante. Poi, andiamo a prendere il sale grosso. Io ce l'ho in questo contenitore di vetro, ma tu puoi usarlo, cioè puoi prenderlo anche da dove ce l'hai. Non è quello importante, è importante che sia sale grosso. La quantità di sale varia da quanta acqua metti nel contenitore, però comunque vai occhio, non è che c'è una quantità precisa. Devi fare anche un po' come te lo senti tu, ok? Poi, la cosa fondamentale è che tu ci devi credere davvero, cioè tu devi desiderarlo con tutto il tuo cuore, altrimenti non potrà avvenire la vera magia. Intanto andrò a far sciogliere il sale all'interno del contenitore, della ciotola trasparente. Andrò a far sciogliere il sale grosso, che sembrano cristalli all'interno dell'acqua, perché dobbiamo ricreare l'acqua del mare che è salata o dell'oceano. e quindi voglio essere una creatura dell'oceano, quindi deve essere salata, salata, salata. Ok, si sta sciogliendo, quindi è un buon punto. bella fresca. Perfetto, è quasi del tutto sciolto. Adesso ogni volta che andiamo ad inserire un ingrediente bisognerà pronunciare la formula magica. Perché così si fa? Ok, allora. Andiamo a chiudere il sale. Allora, mi raccomando, devo metterci tutto a me stesso, tutto il mio cuore, devo crederci con tutto il mio cuore. Bisogna crederci con tutto il cuore. Ok? Mi raccomando, anche tu se lo fai a casa, devi crederci con tutto il cuore. Mare, chi voglio diventare lo sai solo tu. Una creatura dell'oceano blu. Ti prego, trasformami in una sirena. Te lo chiedo in questa notte di luna piena. Ok. Adesso andiamo a metterci tre spruzzi. Del mio profumo preferito, quello del cocco. Uno delicato, uno un po' più forte, un altro delicato. Perché è così che voglio essere come sirena. E spero di avere il potere. mi piacciono un po' tutti, però vediamo vediamo che potere avrò. Mare, chi voglio diventare lo sai solo tu. una creatura dell'oceano blu. Ti prego, trasformami in una sirena. Te lo chiedo in questa notte di luna piena. Adesso bisogna mettere le conchiglie. Le conchiglie. Adesso bisogna mettere le conchiglie. Allora, metterò queste due grandi, che sono le più belle. ricordati, o le tre più belle che hai, oppure quelle che più ne metti e più è possibile che diventi, che funzioni. Io ne metterò quante sento che servano per me. Ok? Comunque, questa è la mia preferita. Vado con la prima, la più bella. La metto al centro. Ma questo dove capita? La metto a nord, questo. Ok? Adesso andiamo a mettere le altre. Guarda che le scelgo bene. Devono essere le più belle per me perché è così che voglio essere. un asunto. e ovviamente un est e un ovest. e poi le tuffo di più piccine ai lati dove c'è spazio. e poi Ce n'è una che calleggia, è un buon segno. Ok, però adesso la faccio sprofondare. Perfetto. Ok. Adesso ripetiamo il nostro mantra. Mare, chi voglia diventare, lo sei solo tu. Una creatura dell'oceano blu. Ti prego, trasformami in una sirena. Te lo chiedo in questa notte di luna piena. Ok, adesso bisogna mettere il capello che avevo preparato qui, ma non lo trovo più, quindi prendiamo uno. Ecco qua. Vedi, è un capello verde. Non so se si vede comunque il mio capello verde. Lo andiamo a mettere dentro la ciotola. Ok, mischiata. Mischiata. Alle conchiglie. Perché mi si appiccica le dita. Ok, perfetto. Rimasto giù. Perfetto. Mare, che io voglio diventare, lo sei solo tu. Una creatura dell'oceano blu. Ti prego, trasformami in una sirena. Te lo chiedo in questa notte di luna piena. Ok. Adesso bisogna mettere l'ultima cosa, ovvero l'oggetto che indossiamo, che portiamo, può essere un bracciale, un giondolo, un anellino, che indossiamo, che portiamo tutti i giorni. Io ho questo braccialetto qui, e quindi lo vado a inserire dentro all'acqua, alla nostra pozione magica, che non andrà bevuta, ma andrà bagnata. Poi mi dovrò bagnare un po' le mani. Però prima va messa... Beh, dopo ti dico bene cosa bisogna fare. Comunque intanto andiamo a mettere. Comunque questo non va bevuto, ma va messo sulle gambe. Ok. Allora, andiamo oltre. Mi raccomando, la profondità della ciotola, io vado a mischiare un po' tutto. Mare, ti voglio diventare lo sei solo tu, una creatura dell'oceano blu. Ti prego. Trasformami in una sirena, te lo chiedo, in questa notte di luna piena. Mare, ti voglio diventare lo sei solo tu, una creatura dell'oceano blu. Ti prego. Trasformami in questa notte di luna piena. Mare, ti voglio diventare lo sei solo tu, una creatura dell'oceano blu. Ti prego. Ti prego. trasformami in una sirena. te lo chiedo. Te lo chiedo, in questa notte di luna piena. Mare, ti voglio diventare lo sei solo tu, una creatura dell'oceano blu. Mare, ti prego, trasformami in una sirena. Te lo chiedo, in questa notte di luna piena. L'ho detto abbastanza volte, mi sento che l'ho detto abbastanza volte, quindi adesso andrò a posizionare questa ciotola sotto i raggi della luna piena e poi andrò a bagnarmi le gambe con questa pozione. Poi torno qui. Vediamo se succede qualcosa. Lo so. Ok, ho fatto tutto. Mi sono bagnata anche le gambe. E adesso dobbiamo attendere che succeda qualcosa. Speriamo non sia un fail, cioè che ho fatto tutto questo per niente, perché io ci tengo veramente tantissimo a trasformarmi in una sirena. Potere, io ne avrei uno in mente che vorrei, però diciamo che alla fine non lo si può scegliere in realtà, perché destino sceglierà per te che potere avrai. Perché infatti le sirene di H2O non hanno scelto, gli è capitato un potere che la destino avessero. Quindi penso che succederà così anche con me, se funzionerà la pozione, ma io sono sicuro che funzionerà. Non so se è la suggestione, ma mi sento le gambe un po' informicolote in questo momento. E mi sento un po' strano, effettivamente. Adesso che ci penso, mi ho mal di testa e mi giro un po' la testa. Non so se è la suggestione, però mi sento un po' strana, sinceramente. non lo sto scherzando, mi sento veramente strana. Ma cosa sta succedendo? Oddio! 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 Oddio, ma ha funzionato! Cos'è? Cos'è questa maglia? le unghie! Oddio! 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 Aspetta! Scusami! Devo vedermi in videocamera! Scusami! Mi tolgo pure le cuffie! O справ Lowry! Anchele.. La stagione deve all'emppost! Oרי tu! Va bene! O fa sempre! O laいただ интересно! i capelli guarda, non è una parrucca, sono miei la coda ho la coda, non riesco a fartela vedere ma giuro che c'è oddio questo percanere, oddio ma funziona, non ci posso gridare, pure niente deve piovere c'è un mega temporale fuori, non ci credo che funziona, guarda qua oh mio dio, non stiamo scherzando, devo fare vero, mettimi un mi piace, adoro guarda anche le unghie picchissime, ma i capelli quanto sono belle da vicino si vede di più, ho le squamme, non ci posso gridare, è emozionato devi provarlo anche tu, creatura, questo incantissimo funziona tantissimo, oddio ecco adesso sono finalmente una sirena, non so quali poteri ho acquisito, non so se riuscirò a vedere subito, però dentro di me sento che forse il mio potere è quello di farle addormentare le persone, però l'ho sempre un po' avuto, ma io credo adesso di avere questo potere, di poter ipnotizzare le mie creature e farle addormentare, tu cosa dici, ce l'ho questo potere o ce l'ho sempre avuto, secondo me adesso ce l'ho ancora più potente, non lo so, comunque sono troppo contenta che abbia funzionato, adoro questi capelli, i miei capelli, le squamme sono un po' strane sinceramente, però non vedo l'ora di provare le mie branche, così posso respirare sott'acqua, io adoro questa cosa, così posso andare nel fondale marino e vedere tutti i pesci senza avere l'ansia di non riuscire più a tornare su e poter stare sotto al fondale marino per sempre, senza problemi, sempre se non mi pesca qualcuno, speriamo di no, comunque niente, adesso sono una sirena e quindi dovrò andare a vivere nel mare perché, o nell'oceano perché non posso restare qua, se poi qualcuno scopre che sono una sirena, sono spacciata perché cioè, mi prendono e mi fanno, o mi mettono in un circo tipo freak show, oppure vado dagli scienziati di buetti, quindi preferisco trasferirmi al mare, andrò a vivere con gli ipopotami, non sono nel mare o nel mare o nell'oceano, visiterò tutti i pesci, spero che anche tu, creatura, faccia questo rito e diventi una sirena così potrei venire a farmi compagnia nel profondità degli abissi, una volta ho paura delle profondità oceani che adesso invece diventerà la mia casa, sono molto contenta ho trovato un posto per me, finalmente, per quello che qui sulla terra mi sentivo sempre a disagio perché in realtà il mio vero posto è nelle profondità dell'oceano finalmente c'è un posto tutto per me, spero che mi verrà a trovare, creatura mi piacciono tanto questi capelli, sinceramente però a trovarti anch'io certo, devo asciugarmi bene e non avere niente che mi bagni adesso, per esempio piove fuori quindi resterò sirena per un po' e non posso uscire adesso, quindi domani andrò al mare, asciugherò bene, tornerò a Cate Splendente e poi, comunque a Cate Splendente ci starebbe anche proprio come nome da sirena cosa ne dici? o lo cambio? non lo so comunque sono troppo contenta che abbia funzionato è troppo bello essere una sirena allora devo imparare a usare la mia pinna che tu non la vedi però è gigante ed è del stesso colore dei capelli, un po' azzurro, un po' verde sì, molto bella e niente, è pesante come coda, non pensavo, però la sento già mia sento già che posso ruotare velocissima superare tutti i pesci e spostarmi da un posto all'altro super veloce e poi vedremo se avrò altri poteri magici non lo so, per adesso già è stranissimo per me essere diventata una sirena figuriamoci poi più avanti, insomma, devo andarci piano piano perché è un grande stroforcimento della mia vita e niente fammi sapere cosa ne pensi con un commento se ti è piaciuto questa mia trasformazione e anche e soprattutto se proverai, fammi sapere se proverai questo rito a casa fammi sapere se poi ha funzionato qui con te mi raccomando segui tutti i passaggi e poi devi crederci con tutto il tuo cuore mi raccomando creatura, io ci ho creduto ed è funzionato vedremo poi se funzionerà anche con te io ti saluto adesso andrò a dormire anch'io e poi domani mi trasferirò domani mi dovrò trasferire al mare perché già non posso più vivere qui sulla terra con sempre la paura che qualcuno mi scopra ti auguro delle felici e gioiose feste di Natale ho voluto provare questo incantissimo con te come speciale natalizio anche se non è un tema natalizio però la magia del Natale fa accadere un sacco di cose fantastiche e quindi buon Natale buone feste mi raccomando riposati mangia, divertiti non penserà a nulla pensa solo a stare bene e a divertirti a stare con la tua famiglia se invece sei da solo spero di averti tenuto compagnia non preoccuparti perché ora sei solo ma chissà con la magia del Natale e delle feste magari potrai incontrare qualcuno invece se ti piace stare solo o sola beh, sei felice allora è tutto ciò che vuoi quindi io ti saluto buonanotte creatora ciao creatora mi raccomando mi raccomando mettimi tanti mi piace e condividi questo video per far conoscere a tutti i tuoi amici tutte le persone che vogliono diventare una sirena come me e condividili il video a tutti i tuoi amici e le tue amiche mi raccomando anche per farle rilassare e iscriviti al mio canale e non dimenticarti di attivare la campanella altrimenti ti perderai le notifiche dei nuovi video ciao creatura ciao creatura realmente sono diventata una creatura dell'oceano ciao creatura buonanotte 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 ciao creatura ciao